e buonasera a tutti amici siamo qui per parlare di spal palermo terminata 1 a 1 ma prima di tutto io come al solito vi invito a iscrivervi al canale a mettere mi piace ai nostri video a commentare perché commentando e polliciandoci quindi cliccando quel pollicione fate girare i nostri video e soprattutto con un commento riuscite anche a farci capire cosa ne pensate di quello diciamo ad avere un ottimo rapporto mi raccomando mantenete sempre un'educazione media che ci permette di lasciare i vostri commenti sotto il video ecco e soprattutto di cercare di parlare di calcio quindi insomma cerchiamo di avere un confronto su quello che calcisticamente è utile affrontare poi ripeto pollicione iscrizione insomma le solite cose mi raccomando perché in questo modo ci facciamo vedere allora io intanto ci tengo a scusarmi con tutti voi perché purtroppo non sono riuscito a fare il video post modena e perugia non per mancanza di idee ma perché proprio non avevo possibilità logistiche di farlo come sapete insomma sono in un momento di transizione sto cambiando casa e quindi ecco ho avuto pochissimo tempo e però ci tengo a dire la mia anche su queste gare quindi insomma il derby è stato un derby molto strano perché se io avendo la vista avendo visto prima gli airlines e poi avendo voluto rivedere la gara per gli airlines sembrava una partita dominata insomma una partita persa in maniera maniera anche ingiusta forse con modena in dieci per tutto la per tutta la gara o quasi insomma per buono almeno 50 minuti e e una spalla che comunque ha macinato gioco non ha trovato il guiz e poi il modena ti ti punisce poi però ho voluto rivedere la gara perché insomma il modena ti punisce non una volta cioè non perdi 1 a 0 per un tiraccio per i 3 a 2 per i 3 a 2 e quindi ho voluto rivedere la gara è una gara che conferma tutte le mie perplessità su questo tipo di gioco su questo tipo di gioco fatti con giocatori di qualità non assolute e un calcio lento un calcio forse anche prevedibile perché poi ecco se sai che le squadre giocano in quel modo ti ci imposti contro poi avevi contro un grandissimo allenatore che ha saputo sfruttare tutti i tuoi tutti i tuoi difetti e De Rossi in questo ancora ha da magna pagnotte come si dice insomma non lo vedo un De Rossi che ha sicuramente una grandissima esperienza come giocatore ma come allenatore ancora deve deve crescere deve crescere perché forse in 11 contro 10 la partita poteva essere impostata in maniera diversa invece solito testa bassa solito gioco un gioco lento un gioco che con gli interpreti che ha secondo me non può non può proporre la partita col perugia è stata una partita brutta brutta da entrambe le parti anzi forse quello che meritava di più ai punti era proprio il perugia che sbaglia anche un calcio di rigore con melchiorri io mi aspettavo di più mi aspettavo i tre punti perché insomma la spalla se contro il modena probabilmente eravamo lì nonostante l'uomo in più contro il perugia delle qualità sicuramente maggiori e un risultato di parità così uno 0 0 brutto pochissime occasioni create onestamente mi lascia mi lascia perplesso perché sì c'è la fiducia della società dell'allenatore c'è una società che parla di un mercato fatto sulle idee dell'allenatore ma io temo che le idee dell'allenatore in questo momento non siano non siano troppo coerenti con quello che è il livello della squadra e con quello che è il livello della categoria che sta affrontando cioè tutto molto bello l'idea l'idea del gioco riproporre l'idea del dell'arrivare al gol con una fitta re dei passaggi ma siamo in serie b siamo in serie b l'importante è fare punti l'importante è vincere l'importante è togliersi da quelle posizioni in classifica che sono brutte perché poi come ha detto anche dei rossi post post partita contro il palermo alla fine meglio fare un punto e perché altrimenti si rischia di restare imbischiati ma la spalcia già è già imbischiata in in una situazione classifica non brillante ha già grandissimi problemi che il l'arrivo di un nuovo allenatore non sembra aver coperto anzi anzi questa nuova ricerca di gioco paradossalmente ha portato meno punti rispetto alle prime partite dove invece c'era stata una spalla un po più pratica nelle prima che il mister riuscisse a portare le sue idee mi era sembrato un dei rossi un po più aveva avuto calma nel nell'inserire le sue idee oggi invece fa il suo calcio è un calcio ovviamente in cui lui crede e di questo è sicuramente un allenatore un giocatore un ex giocatore una persona che ha carattere quindi immagino proverà a portare avanti le sue idee sono delle idee che attualmente non lo stanno premiando passiamo ora finalmente a parlare di spal palermo una gara una buona gara e de rossi l'ha definita la miglior gara da quando c'è lui onestamente non lo so perché la partita col cosenza è viziato da una mancanza completa dell'avversario le altre se vai a vedere non sono state belle partite forse col modena qualcosina si è creato ma ripeto e torno a pensare che non sia un un tipo di calcio che va bene per la serie b col palermo effettivamente qualcosa si è visto sei andato in vantaggio non sei riuscito a difenderlo e questo è un po il problema il problema che hanno questo tipo di squadre perché quando c'è da fare possesso quando c'è da impostare offensivamente bene ma poi la fase difensiva spesso lascia a desiderare e se il suo diciamo mentore il suo la sua pietra di paragone è proprio la roma di luiz enrique mi viene da dire che ahimè questa sarà un difetto un difetto di dna per la spalla perché appunto la roma di luiz enrique era capace di fare anche grandi azioni ma poi incapace completamente di difendere la porta quindi da questo punto di vista io temo che sia fisiologico per questo tipo di squadra per questo tipo di impostazione rischiare poi di subire delle rimonte gol gol che porta avvantaggio alla spalla è splendido nella girata al volo la calcio d'angolo però quindi non è neanche un'azione costruita non è non è un riflesso di quello che i ragazzi hanno messo in campo o quello che le idee dell'allenatore è un'azione costruita poi la spalla sbaglia tantissimo io ho visto un contropiede 3 contro 1 una gestione pessima del pallone per carità anche due belle parole del portiere avversario ma lì la palla la devi buttare dentro perché se in 3 contro 1 hai tutto il tempo di organizzarti bello il velo che porta l'esterno a calciare ma più concretezza ragazzi serve più concretezza questo è un campionato di serie B dove serve far punti quindi sì buono il pari però eri in casa dove eri contro una diretta avversaria così come contro il Perugia serve qualcosa in più serve qualcosa in più sicuramente nei giocatori quindi vediamo aspetto con ansia anche il mercato di gennaio per vedere quali sono le idee del mister perché insomma si è parlato di un calciomercato basato sulle idee dell'allenatore a questo punto vediamole queste idee andiamo a vedere come Daniele De Rossi cercherà di recuperare una situazione non brillante contro il Palermo poi prende un gol abbastanza abbastanza così classico gol di queste squadre insomma una palla in profondità bravo Bruno a inserirsi e a calciare però insomma qualcosa di più la difesa spallina poteva farla poi sì una bella prestazione tante occasioni create però non quagli non vai al sodo e quindi questo ti punisce ti porta a una posizione in classifica brutta 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 e bisogna continuare a lavorare bisogna continuare a cercare sì il gioco che l'allenatore chiede però forse anche l'allenatore dovrebbe un attimo non dico modificare il suo modo di pensare ma quantomeno adattarsi a quelle che sono le qualità dei suoi giocatori che mi sento di dire non ti permettono un gioco troppo articolato io ieri guardavo un video di il Barcellona di Guardiola il Barcellona di Guardiola faceva sì 30 passaggi ma li faceva a una velocità fotonica tutti di prima o al massimo di seconda in questo modo si mandi mandi a quel paese tra virgolette la pressione degli avversari e oggi il calcio oltre a essere stato completamente modificato e il gioco del calcio anche fatto da Guardiola non è più quello gli interpreti non sono più gli stessi anche chi propone spesso chi propone questo gioco non riesce a capire che fatto a questa velocità fatto con passaggi prima e di seconda sicuramente ha un valore di scardinare la difesa avversaria fatto con giocatori che hanno bisogno di due tre quattro tocchi per poter sistemare il pallone e poi andare avanti onestamente secondo nome rallenta solo l'azione e concordo con Capello che è un calcio ormai vecchio fatto da una squadra che aveva gli interpreti di quasi tutti al massimo livello mondiale e che non è replicabile da giocatori che a quel livello non lo sono cioè ti può dire bene una partita dove l'avversario magari ti lascia fare il tuo gioco però alla lunga secondo me non paga ecco non paga a meno che non si hanno quel tipo di giocatori questa è la mia idea ditemi nei conventi cosa ne pensate voi e come pensate che la spal possa rialzarsi e uscire da da queste sabbie mobili della bassa classifica che probabilmente anche per qualità attuale della rosa non le appartengono e noi ci vediamo al prossimo video spero di riuscire a seguirla con più continuità ciao a tutti ragazzi alla prossima